il mio sguardo è nitido come un girasole ho l'abitudine di camminare per le strade guardando a destra e a sinistra e talvolta guardando dietro di me e ciò che vedo a ogni momento è ciò che non avevo mai visto prima e so accorgermene molto bene so avere lo stupore essenziale che avrebbe un bambino se nel nascere si accorgesse che è nato davvero mi sento nascere a ogni momento per l'eterna novità del mondo credo al mondo come a una margherita perché lo vedo ma non penso adesso perché pensare è non capire il mondo non si è fatto perché noi pensiamo a lui pensare è un'infermità degli occhi ma per guardarlo ed essere in armonia con esso io non ho filosofia ho sensi se parlo della natura non è perché sappia ciò che è ma perché l'amo e l'amo per questo perché chi ama non sa mai quello che ama né saperché ama né cosa sia amare amare è l'eterna innocenza è l'unica innocenza e non pensare è l'unica innocenza è l'unica innocenza è l'unica innocenza è l'unica innocenza e non lo so